Ascoltateli.org, un sito internet molto interessante, parliamo di TAV ma non solo con i nostri ospiti, in ordine alfabetico rigoroso, Edoardo Acotto, buongiorno, e Nanni Saglio, centro studi Sereno Regis. Tra un attimo rivedremo quel servizio che abbiamo realizzato in Piazza Castello, che cos'è Ascoltateli.org, che cosa dobbiamo ascoltare? Allora, Ascoltateli è una complessa organizzazione che ormai esiste dal 17 marzo scorso, siamo in Piazza Castello e digiuniamo pubblicamente a Staffetta, c'è una grande tenda che ci è stata messa a disposizione dal movimento NOTAV della Val di Susa, era una parte del refettorio della Repubblica della Maddalena, famosa che è l'allestimento di tende, quella sorta di grande campeggio democratico che c'era quest'estate, prima dello sgombero della zona in cui adesso ci sono le recinzioni. Noi che cosa chiediamo? Chiediamo l'ascolto delle ragioni innanzitutto dei cittadini della Val Susa, che riteniamo non essere stati adeguatamente ascoltati, nonostante si senta molto spesso di che il contrario, nonostante l'informazione politica tenda a dire che c'è stato tutto l'ascolto necessario in questo caso. Chiediamo che vengano ascoltati i numerosissimi ormai tecnici che hanno scritto al Presidente Monti, inizialmente erano 360, adesso sono già un migliaio, quindi continuano ad aggiungersi, tra l'altro adesso è in elaborazione un nuovo documento di risposta ai 14 punti di Monti. Chiediamo sostanzialmente che vengano ascoltati tutti coloro che chiedono di essere ascoltati in questa questione. E che finora non sono stati presi in considerazione e ne ascoltati? Allora, secondo noi c'è stato un ascolto molto parziale, adesso sicuramente gli ascoltatori sapranno che c'è l'osservatorio, si parla da molti anni di questo famoso osservatorio presieduto da Mario Virano, ma noi riteniamo che in questo osservatorio in realtà siano state fatte delle decisioni a monte che hanno impedito un ascolto globale complesso di tutte le ragioni in campo. Cioè prima hanno deciso e poi dicono, beh adesso se volete ascoltate, ma tanto la decisione è già presa. È più o meno così, sì, sostanzialmente più o meno così, poi ci sono sfumature. Noi vediamo il servizio, vediamo il servizio così, vediamo uno di voi in Piazza Castello venerdì, il servizio di Gabriella Ferrero. Digiuno per cofame di giustizia e si presidia qui in Piazza Castello questo digiuno per sostenere la causa dei notav. Sì, ma sostenere la causa dei notav, vero, ma più veramente il titolo del digiuno di fatti è ascoltiamoli, è chiedere al palazzo, questo eccetera, al potere di avere un momento di ascolto delle ragioni del notav. Per cui io, è chiaro, sono notav, ma in questa cosa potrebbe starci benissimo anche uno che è democratico, magari è d'accordo con la TAV, vuole il sitav, ma non a prescindere dalle ragioni del no. Cioè tu devi convincere, tu ti confronti in modo democratico se la TAV viene da una convinzione, non da un'imposizione. Questa è la sostanza. Allora, l'elemento minimo della democrazia è l'ascolto reciproco. Ecco perché abbiamo detto ascoltiamoli, questa è un'iniziativa, è un digiuno perché le autorità costituite ascoltino le ragioni del notav. La tenda piazzata qui in Piazza Castello da quando e fino a quanto durerà? È stata messa venerdì scorso, quindi esattamente una settimana fa, ed è una settimana che qua si continua a digiunare, sia pure a staffetta, forse è Turi che in Val Sud sta facendo la settimana continua. Qui facciamo del digiuno a staffetta e digiuneremo fino a che questo ascolto non ci sia. Adesso non posso dire con quali forze, comunque l'ipotesi non ha un fine. Il fine è l'ascolto che un'autorità costituita, il governo, il governo regionale, il governo della città, dia un segno di ascolto, che è il minimo indispensabile perché la democrazia non sia vanificata, che sia conservata un dato di umanità anche là dove ci sono dei contrasti. È legittimo che vi possono essere dei contrasti, ma la condizione di umanità esige l'ascolto reciproco. Lo conoscete? Sì, sì, lo conoscete, no? Sì, Beppe Marasso. Beppe Marasso. Digiuno perché ho fame di verità, tanta fame di verità. Una delle condizioni fondamentali di un comportamento coerentemente non violento è la ricerca della verità, sapendo che nessuno la possiede interamente, né i fautori della linea ad alta velocità né coloro che sono contrari. Questo è ciò che Gandhi ci insegna. Molti di noi partono da questa consapevolezza. Noi vogliamo conoscere bene e a fondo le ragioni dei sostenitori della linea ad alta velocità e vogliamo che loro ascoltino e dialoghino sulle controargomentazioni. Ma c'è ancora tempo per discuterne, per togliere quel punto interrogativo che abbiamo messo lì, treno ad alta velocità, punto interrogativo, ci sarà, non ci sarà, c'è ancora il tempo per discuterne, mentre il cantiere avanza seppur lentamente? Il cantiere è praticamente fermo. Sono passati più di vent'anni, se sono passati è perché questo progetto è nato nel peggiore modo possibile. È nato come progetto di alta velocità per i passeggeri, prima ancora di verificare che i passeggeri non c'erano. non c'erano in quantità sufficiente per giustificare da un punto di vista elementare un'impresa di questo genere e questo è stato riconosciuto. I treni saranno vuoti sulla Torino-Lione? Sono semi vuoti persino sugli altri treni ad alta velocità già esistenti in Italia. Queste sono immagini storiche della Repubblica della Maddalena, vero Edoardo? Sì, direi, adesso non so datare ovviamente, ma direi più. Ne abbiamo fatte talmente tante di immagini e di manifestazioni che qui siamo comunque visibilmente in inverno, già autunno-inverno. Ecco, a che punto è la Repubblica, tra virgolette, la Repubblica della Maddalena? Sì, beh, innanzitutto premetto che io non faccio parte direttamente del movimento Notav, quindi io ho dei contatti come tutti noi del Sereno Regis, quindi io sono andato più volte alle manifestazioni, ho dei contatti. Però non fatti parte direttamente? No, io per esempio non ho assolutamente partecipato all'organizzazione della cosiddetta Repubblica della Maddalena, invece poi da quest'estate ho incominciato, perché già in passato avevo seguito, ho incominciato a seguire le manifestazioni di protesta, quindi più che altro ho seguito la fase successiva allo sgombero, anche violento, perché ci sono state delle aggressioni notevoli e quindi diciamo che l'idea proprio di ascoltate nasce sostanzialmente dopo il 3 luglio, che è la data della grande manifestazione in Val di Susa, con gli sconti seguiti. Edoardo, Nanni, proviamo ad ascoltare, a far ascoltare le ragioni da una parte e dall'altra. Nanni, cominciamo con le ragioni del CTAV, secondo loro. Poi ogni tanto abbiamo ospitato spesso dei politici, perché in realtà non esiste un comitato CTAV, non esiste, un po' come non esisteva il comitato per l'acqua pubblica o per il nucleare. C'era che era contrario e il resto, soprattutto nel mondo politico, era a favore. Qui chi è il vostro interlocutore? Lo Stato? Le istituzioni più in generale, a cominciare da quelle locali. Cioè noi vorremmo che per esempio il sindaco, il passino, venga a dialogare con noi, oppure altri amministratori. So che i sindaci sono divisi, c'è una bilancia che fa un po' così tra CTAV e Notav, no? A dire il vero, nella bassa valle di Susa ci sono solo due amministrazioni che sono a favore. Tutte le altre sono contrarie, quindi la bilancia è totalmente notabile. Ah, notava, totalmente notava. Totalmente. L'alta valle di Susa ha un'altra posizione perché non è direttamente coinvolta nella questione e ritiene addirittura che ci possano essere dei benefici o comunque vedono soprattutto le difficoltà dovute al fatto che alcune manifestazioni possono talvolta scoraggiare le persone. I turisti per l'intesa. E quindi torniamo sempre ai problemi legati a tutto quello che è il movimento economico, no? Sì, con una precisazione che tutte le previsioni fatte dai tecnici sono controverse. Da un lato c'è un gruppo di tecnici qualificatissimi, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università di Siena e altri che argomentano con tesi che smontano quelle governative. Dall'altra c'è una posizione del governo che però in genere non presenta argomentazioni tecniche, ma soltanto argomentazioni che potremmo definire qualitative. Cioè l'unica argomentazione è abbiamo bisogno di fare questa linea, non è vero che l'Europa ce lo chiede, tutti dicono così ma non è vero, no? Non è vero. Però c'è questo corridoio 5 che passa anche attraverso la Torino-Lione. Cioè l'unica cosa che si dice è non possiamo affermare il progresso, no? Beh, questo intanto è una delle questioni, ma poi anche soltanto il corridoio, in realtà il corridoio passa a nord delle Alpi e quindi questo è una bretella. Cioè un corridoino. Un corridoino. E la cosa buffa è che qualche giorno fa, la notizia importante, il Portogallo che si trova in condizioni molto più critiche dell'Italia, ha deciso formalmente il governo portoghese che il tratto che riguarda il Portogallo non si fa. Ma come Lisbona è il capolinea della linea Kiev-Lisbona? E infatti la linea non arriverà a Lisbona perché il governo ha detto che in questa condizione critica non hanno i soldi e non ritengono che sia così essenziale. Allora questa è una decisione che ovviamente dovrebbe pesare su tutta quanta l'opera. Per l'Italia c'è qualche cosa di analogo. A proposito del progresso, ci sono varie forme di progresso. Questa questione è una questione altamente controversa. Se i tecnici sono divisi, allora come si fa a decidere? Se c'è un premio Nobel, per esempio sulla questione del nucleare, che dice che il nucleare bisogna farlo, e l'altro premio Nobel che dice il contrario, chi avrà ragione? Come si fa a decidere? Hai la risposta, Nanni? La risposta c'è. La risposta è il principio di precauzione. Che cosa succede se si sbaglia l'uno o se si sbaglia l'altro? Nel caso specifico della questione che stiamo esaminando, siccome una delle possibili soluzioni che è argomentata e sostenuta con dati molto fondati, è che si può potenziare la linea esistente. Siccome il traffico attualmente è molto basso, intorno ai 12-15% viene utilizzato. Sicuramente per un certo numero di anni, a maggior ragione visto che la quantità di merci sta decadendo come intensità, questo rafforzamento permetterebbe di affrontare la situazione. Cioè rafforzare la linea già esistente senza fare buchi nella montagna. Se ci sbagliamo, a posteriori, fra 10-15-20 anni, bene, riprenderemo in esame l'altra soluzione. Prendiamo la soluzione opposta. Se facciamo il buco e poi vediamo che non serve a posteriori, non possiamo rimediare. Non si può tappare il buco, eh? Sì, certo, sarebbe, possiamo metterci del vino, che ne so, fare delle escursioni dentro questa lunga galleria, ma insomma sarebbe del tutto ingiustificato. Oppure se vedremo a posteriori che anche i danni ambientali saranno veramente enormi e così via. Noi stiamo andando verso un mondo che deve fare una transizione verso un altro modello di sviluppo, di progresso, di concezione della vita comune. Ci sono una quantità di evidenze straordinarie a questo proposito, a cominciare dalla situazione energetica, dalla questione che va sotto il nome di picco del petrolio, il prezzo del petrolio crescente, che mette in discussione questa possibilità di crescita continua. Una crescita continua non è compatibile con i limiti della biosfera in cui noi viviamo. Questa è una condizione molto rigorosa dal punto di vista scientifico. Edoardo, fino a quando continuerà la vostra protesta? Diciamo a oltranza, in realtà fino a quando avremo le forze. Attualmente sembra che le forze in campo stiano aumentando, quindi abbiamo... Nuovi volontari? Sì, sì, sempre tutti i giorni noi volontari, persone che ci chiedono come aiutarci, tra l'altro abbiamo bisogno di vari tipi di aiuto, anche soltanto qualcuno che ci aiuti al presidio. Come si fa per darvi una mano? Allora, diciamo che siccome tutto ruota intorno alla figura dei digiunatori, abbiamo ovviamente bisogno di persone che siano disposte a digiunare per 24, 48, anche 72 ore o anche più, ma insomma non chiediamo a nessuno di fare il supereroe. Quindi 24 ore va benissimo, si comincia alle 20 del giorno scelto e si va avanti fino alle 20 del giorno successivo. Preferibilmente ci si ferma a dormire in tenda, se questo non è possibile. Ci sono persone che magari per problemi vari, anche solo di lavoro, non possono fermarsi a dormire. Comunque chiediamo la massima, la maggiore permanenza possibile lì in tenda. Ci sono poi dei veglianti, così li chiamiamo, che durante la notte non digiunano, ma stanno svegli per tutta la notte proprio per proteggere il presidio, perché tra l'altro durante la notte si possono fare incontri molto curiosi, ci sono tante persone interessanti che arrivano. Cioè tante persone che vengono a chiedere notizie, informazioni? Per persone di notte ovviamente persone magari anche, insomma, persone problematiche, diciamo. Quindi insomma ci sembrava... Però curioso, tu hai definito che si fanno incontri curiosi. Sì, sicuramente il presidio è diventato un luogo, mi sembra, importante della città, perché comunque c'è molto passaggio, si incontrano persone... È passato anche qualche politico? Per adesso no, però comunque sono passati ieri. C'erano dei signori che esplicitamente si dicevano CITAB, che hanno preso la parola, hanno parlato e mi sembra che la cosa sia andata molto bene. A me sembra veramente che questo stia accadendo forse, non dico esattamente per la prima volta, ma mi sembra qualcosa di nuovo. Sì, veramente un po' di dialogo, no? Mi sembra proprio sì. Dialogo civile. Mi sembra che stiamo andando in quella direzione lì. In altre città c'è un movimento simile anche in altre città? Sì, ci hanno subito chiesto come gemellarsi con noi, hanno cominciato in Liguria, quindi in diverse città Liguri, tutti i giorni c'è un digiunatore che noi inseriamo nel nostro elenco, perché hanno aderito esplicitamente al nostro appello. Ci sono poi altri digiunatori a Trieste, dopodiché adesso si stanno organizzando, mi hanno contattato un ragazzo molto simpatico del liceo Tasso di Roma, che è venuto qui la settimana scorsa e che adesso a Roma sta cercando di organizzare un presidio. Poi ci sono ragazzi di Livorno che ci hanno anche contattati e per quello che riguarda la Liguria direi il contatto più stretto, infatti ci hanno chiesto uno scambio, un anno probabilmente andrà a trovarli. Non è poi che in Liguria il Presidente della Regione urlando quasi spera che la TAV non si faccia più in Piemonte perché lui la vorrebbe come risorsa in Liguria. Ma io dico, ma dopo i no TAV non sbucano fuori anche in Liguria? O sono tutti contenti di avere eventualmente il treno che passa nella già frastagliata e rovinata costa Ligure? Beh, ci sono già dei movimenti contrari a questa ipotesi. E il tracciato B, il piano B eventualmente? Solo che attualmente non ha assunto un rilievo enorme perché è un'ipotesi piuttosto... Campato un po' in aria. ...remota, appunto, è campata in aria. Però credo che in realtà sia contento nessuno di avere il treno ad alta velocità sotto il naso, no? Ma l'altro equivoco enorme che bisogna subito sciogliere e che fa parte degli errori commessi inizialmente proprio dalle istituzioni è che questo treno è stato all'inizio, come accennavo prima, visto come un treno ad alta velocità per i passeggeri, scoperto che i passeggeri non erano in numero sufficiente per giustificare la cosa, allora hanno cambiato tattica. Speriamo che non utilizzino un treno comune sia per le merci, fanno un po' il vagone merci e il vagone passeggeri. Infatti questo potrebbe essere. L'hanno chiamato treno ad alta capacità, no? Ah, l'espressione... Adesso c'è un'espressione... Il TAC? Tic-tac. Ma il TAC mi mancava, treno ad alta capacità. Che è un'espressione che esiste solo in Italia, l'hanno inventata gli italiani. L'hanno inventata, ma in qualche misura, in qualche dibattito, ho sentito che anche in Francia qualcuno accennava... Il TAC è già un po' inquietante, no? Quando uno deve fare la TAC, il TAC è ancora peggio. È ancora peggio. Ecco, comunque, siccome le merci, per ragioni proprio tecniche, non possono viaggiare ad altissima velocità, non certo a 300 km all'ora, neppure a 200 km, la velocità, diciamo, commerciale è intorno ai 100 km all'ora. Allora cadiamo ancora una volta dentro, io direi, il ridicolo, perché qui viene fuori proprio una questione di fondo. In Francia e anche in altri paesi, in Belgio, esiste una legge da tempo che si chiama la legge sulla concertazione per le grandi opere. Questa legge obbliga le istituzioni a dialogare con la popolazione, non solo con i tecnici, con la popolazione in generale. Da noi questa legge non c'è. Il ministro Passera ha ipotizzato, non molto tempo fa, che anche in Italia venga fatta una legge di questo genere. Allora, noi siamo ovviamente favorevoli a tutto ciò, ma vorremmo che venisse comunque applicata anche a quest'opera che è ancora così sospesa e che quindi potrebbe essere la prima occasione per dialogare veramente. Dialogo, dialogo, dialogo. E voi ci provate, e voi ci provate anche sul sito www.ascoltateli.org. Io vi ringrazio per le vostre ragioni che ci avete espresso con la massima naturalezza e con la convinzione di essere ovviamente dalla parte del giusto. Vi invito a tornare, noi con le nostre telecamere ogni tanto, siamo lì in Piazza Castello per vedere il dialogo che continua. Grazie ad Edoardo Acozzo, grazie a Nanni Saglio. Dopo la pubblicità avremo... Grazie a tutti.